Ciao Maurizio, Stefano Benedetti, Città Celeste, scusa la voce. Possiamo parlare di un punto perso? Di due punti persi? Possiamo parlare di una partita difficile. La partita era palesemente difficile e facilmente prevedibile già in sede di preparazione. Abbiamo affrontato una squadra che porta le squadre su una partita sporca, su una partita d'aggressività e l'abbiamo trovata in un momento in cui stanno bene mentalmente e fisicamente, lo dimostrano i risultati che stanno facendo in questo periodo, in un momento anche in cui vedono accorciare la classifica e aumentano le possibilità di salvezza. Era chiaro che la partita sarebbe stata questa e noi secondo me l'abbiamo interpretata anche molto bene se facciamo eccezione per il primo partito del secondo tempo. Dall'inizio dell'anno però la Lazio perde a Lecce, pareggia con l'Empoli, pareggia oggi, ha pareggiato anche un'altra partita. Non pensi che sia un cammino verso quell'obiettivo, che è inutile che stiamo qui a ripeterci, che forse a volte viene un po' minato da una mancanza di concentrazione e continuità? Una mancanza di concentrazione in una partita di questo tipo, prendi 4 gol come si presero l'anno scorso e si va a Cass. Oggi mancanza di concentrazione, se si parla di una disattenzione su una palla ferma seguita a 5 minuti di sbandamento, sono d'accordo. Mancanza di concentrazione detta a una squadra del lotto, ma ha lottato la nostra stasera, è un po' irrispettoso, ti dirò la verità. Buonasera Minister, però riprendo la domanda del collega. Lei spesso ha detto di questa Lazio che ha bisogno di continuità per poter dare un senso a questo campionato. Continuità a volte vuol dire anche non perdere le partite. Le chiedo se lei riesce a decifrarla questa Lazio, perché è molto altarenante. Io la partita di stasera non la considero altarenante. No, nel rendimento, non soltanto la partita di stasera. Nel rendimento la considero una buona prestazione. È una serata che era difficilissima e la squadra ha fatto una buona prestazione, fatta eccezione per i primi 15 minuti del secondo tempo. Se poi si parla di risultati e basta, va bene. È una squadra che non ha ancora continuità. Le chiedo poi, secondo lei, questa squadra è dipendente da Ciro Immobile e come sta l'attaccante della Lazio? Ciro sta meglio. Stasera, rispetto alla partita precedente, era già in condizioni migliori. È chiaro che deve ancora crescere, ma per crescere ha bisogno di fare minuti in campo. E a noi fa anche molto comodo, perché stasera ci ha permesso di far tirare un po' il fiato a Felipe e nelle ultime 5-6 partite abbia fatto un minutaggio completo, totale. Mister, buonasera. Al di là dell'analisi sulla partita, le chiedo ancora una volta... Sì, Stefano Ceri, Gazzetta dello Sport. E chiedo ancora una volta, primo tempo chiuso in vantaggio e poi non si riesce a mantenere questo vantaggio in una ripresa. Siccome è caduto durante un mese... Non mi domandare come si fa, perché se lo sapevo l'avevo già risolto. Ma cos'è? Può essere diventato... Può essere anche un problema psicologico, cioè che la squadra teme questo... Quando un problema coinvolge 25 persone contemporaneamente è difficile da individuare se c'è una causa ben precisa e andare alla risoluzione. Io penso che l'importante sia, prima di tutto, prendere atto. Fermi tutti. Cerchiamo di rientrare in maniera diversa da quella che abbiamo fatto ultimamente, perché così si sta buttando via punti. È evidente. Io ho fatto a fine partita e gli ho detto ai ragazzi che ero contento e lo avevo visto, soprattutto a livello carattereale, a livello di spirito di squadra, di atteggiamento, però una pausa di riflessione su questa problematica perché sta diventando pesante. Poi le volevo chiedere, come mai solo due cambi, considerando anche che nel finale la partita la Lazio, insomma, magari qualche forza fresca in più poteva... Con l'ingresso di Vessino a livello di fisicità avevamo rimesso a posto la partita. Ci poteva essere qualche giocatore che poteva soffrire la fisicità, tipo Luis Alberto, però io non volevo rinunciare completamente a un giocatore che mi poteva far uscire la squadra da qualche pressione. Quindi non ho ritenuto di andare oltre, anche perché poi alla fine in campo che abbiamo fatto 90 minuti giovedì c'erano solamente due giocatori. L'altro abbiamo fatto tutto uno spezzone di partite. Ma infatti la squadra fisicamente ha retto bene, anzi nel finale mi sembrava nettamente in crescita. Buonasera mister, Mirko Porghesi, la LazioSiamoNoi.it le chiedono un giudizio sulla prova di Cataldi. Primo tempo eccezionale, se nei cinque minuti del secondo tempo una delle chiavi del Verona è stata proprio aggredire lui in maniera forzennata. Lui aveva anche qualcosa, perché mentre stavamo lì entrando nel secondo tempo il dottore mi ha detto da un'occhiata a Cataldi perché ha preso un brutto colpo su un quadricipide. Non vorrei che essendosi fermato poi abbia problemi a tornare dentro. E poi improvvisamente ha perso il paio di palloni. Se questa sia una concausa o no, non lo so. Però poi siamo andati per la sostituzione e la sostituzione è chiara, doveva essere una sostituzione bella fisica in quel momento. E poi le chiedo se l'arbitraggio può avere un po' innervosito Milinkovic. Praticamente nel secondo tempo non è riuscito a giocare tanti palloni. Milinkovic secondo me ha fatto un miracolo perché se gioavo io penso che non l'avrei mai finita in tutta la vita una partita con due o tre decisioni e sono state prese su Milinkovic. Però stavo bravo. Magari sei innervosito ma non è andato neanche a prendere l'ammunizione quindi ha fatto tanta roba. Buonasera, ministro Alberto Fabrella, Slive. Ti chiedo, nel finale di partita hai temuto anche di lasciare anche questo punto che invece ti porti a Roma? No, ho temuto il primo attore e il secondo tempo. Nel finale no, nel finale era convinzione da andare a vincere. Di questo Verone invece cosa ti ha più impressionato e secondo te che possibilità ha la squadra del tuo collega Zaffaroni di mantenere la categoria? Grazie. Dipende da quanto può prolungare un momento di salute fisica e mentale come c'è in questo momento. Se Giorno con questo spirito, con questa aggressività portano le squadre nello sporco come stanno facendo negli ultimi altri cinque partite e le possibilità ce l'ha sicuramente. Grazie a tutti. È chiaro, è un modo di giocare e quando decadi fisicamente lo paghi. Ciao. Ciao.